Un fraintendimento. Daniela Gerosa tenta di chiudere così le polemiche nate sulla vicenda a posti blu e aumenti a sorpresa che ha tenuto banco negli ultimi dieci giorni. Oggi il supervertice fra l'assessore e il suo dirigente, Pier Antonio Lorini. Il tema è noto. I ritocchi, frutto di una delibera del 2011, quindi varata dalla precedente amministrazione, sono stati attivati dal dirigente senza che l'assessore ne fosse informato. Come e perché sia accaduto è stata materia del confronto di oggi. Riunione molto lunga nella quale i due hanno ricostruito i passi della vicenda. Una Gerosa in posizione estremamente diplomatica, nonostante sia stata sulla graticola per più di una settimana, fa sapere che una mancata comunicazione ha generato la situazione, ma ora è tutto chiarito. Di fatto però, a precisa domanda, cioè se Lorini l'abbia o meno informata della decisione di applicare le nuove tariffe, la risposta è chiara ed è no. Pare di capire insomma che la ricostruzione è data per buona, vedo da un lato il dirigente convinto che l'assessore fosse a conoscenza degli aumenti delle tariffe e dall'altro l'assessore che invece non ne sapeva nulla. Resta il fatto che gli incrementi delle tariffe orarie in diversi posti blu ci sono e sono attivi. Vogliamo cancellarli, dice Gerosa, ma non è affatto semplice. La nostra delibera sui parcheggi è chiara e non prevede aumenti, ma quella del 2011 li prevedeva. Abbiamo attivato la segreteria generale perché entro la giunta di mercoledì ci faccia sapere se è possibile cancellare tutto quanto. Stiamo facendo il possibile, ma non posso garantire che accadrà. Insomma, nella giunta in programma fra due giorni potrebbe essere risolta la beffa a parcheggi, ma nulla è scontato e tutto a causa di un fraintendimento.